Eccoci con Nicolò Barella, questa era una partita con tanti significati per voi su un campo difficile, vi portate a casa un punto grazie ad una prestazione di alto livello. C'è più soddisfazione o rammarico perché avete giocato un'ottima partita, avete creato tanto, quindi potevate tranquillamente vincerla? Sicuramente c'è rammarico perché abbiamo avuto delle occasioni, ma le hanno avute anche loro. Queste sono le partite tra squadre forti, vengono determinate da un episodio, quindi diciamo che ci prendiamo il bello, l'atteggiamento di tutti i ragazzi, abbiamo tutti dato il 200% chi ha giocato e chi è entrato e questa è la cosa più importante perché per arrivare in fondo in questa competizione, anche in campionato, c'è bisogno di tutti. Ecco questo il grande punto di forza dell'Inter, il fatto che in queste serate dove c'è bisogno di tutti, attaccate e difendete tutti insieme come questa sera? Sì, assolutamente. È la cosa più importante, soprattutto dopo una partita col Monza dove potevamo logicamente vincere e poi c'è stata una reazione forte della squadra e già quella è una dimostrazione che tutti i ragazzi siamo concentrati. Siamo concentrati, oggi abbiamo dimostrato che comunque chiunque giochi si fa trovare pronto e questa non solo si fa trovare pronto con qualità e questa è la cosa più importante, è quello che ci chiede il mister e poi le vittorie arriveranno e ci divertiremo. A proposito di qualità, una grande prestazione da parte tua, sei consapevole del peso che hai su questa squadra? Io sono importante come sono importanti tutti, da solo non serve a niente. Ripeto, chi ha giocato oggi, chi è entrato, ha dimostrato che dà il 100% per l'Inter, questa è la cosa più importante. Io cerco di dare il 100%, i ragazzi mi fanno sentire importante, mi fanno sentire forte, quindi cerco di dargli tutto. Ci servirà tutto anche per il Milan, c'è il derby domenica, chiudere è una settimana molto importante e impegnativa per voi? Sicuramente è una settimana impegnativa, però tutti sogniamo di giocare queste partite qui con il Manchester City, il derby, quindi ci faremo trovare pronti e cercheremo di vincere. Debutto dal primo minuto per te in una gara così importante, che sensazioni vi lascia questa partita, questa serata, questo pareggio? Sicuramente ottime sensazioni, a parte che abbiamo giocato con una delle squadre più forti al mondo, abbiamo giocato alla pari, abbiamo creato tante occasioni per fare gol e per poter vincere la partita, quindi sono soddisfatto, ma più per me e per la squadra che ha fatto un'ottima partita. Ecco, avete giocato con grande personalità e senza nessun timore, questa è la mentalità delle grandi squadre? Certo, siamo l'Inter e dobbiamo dimostrare con tutte le squadre le nostre qualità, la nostra volontà di comandare il gioco, di far bene, di cercare di vincere le partite, perché siamo forti e abbiamo dimostrato anche stasera. Tu sei qui da poco, ci racconti che cosa hai trovato di speciale in questa squadra nell'Inter? In generale, una società speciale, giocatori speciali, c'è tanta concorrenza che è un stimolo, è un piacere giocare per questa squadra, cercherò sempre di migliorare e di far bene per far rendere felici i tifosi, tutta la famiglia dell'Inter. Questa è una settimana impegnativa per voi, perché adesso c'è il derby e trovate un Milan ferito dal risultato in Champions League, su cosa dovrete lavorare? Sì, sicuramente dobbiamo essere pronti, concentrati, perché sarà un'altra partita difficilissima, con un grande avversario, con tutto rispetto, però noi giocheremo a casa, cercheremo di far bene, di vincere la partita. Ciao, oggi abbiamo visto un'Inter ambiziosa, determinata, coraggiosa. Vi aspettavate una gara così, vi portate a casa un punto, ma potevate vincerla tranquillamente? Sì, potevamo vincere, però credo che tutti sono contenti con un punto, come hai detto tu, abbiamo giocato con coraggio, con tanto sacrificio, uniti in campo, quello che serviva dopo il Monza, abbiamo giocato contro una squadra forte, abbiamo creato tante occasioni, però alla fine non abbiamo fatto il gol, comunque da parte questo siamo contenti con un punto. Oggi era molto importante la gestione dei momenti, voi avete murato le ripartenze del City, siete stati pericolosi, quando c'era spazio che cosa è mancato, quindi all'Inter un po' di fortuna anche? Un po' di fortuna, sì, credo che sì. A parte questo, credo che siamo stati molto bene in fase difensiva, anche loro erano qualche volta pericolosi, però eravamo tutti dietro, quando serviva a difendere, eravamo tutti lì, non abbiamo lasciato niente, perché contro questi 90 minuti sono molto importanti e tutti i dettagli sono importanti. Però alla fine potevamo vincere, sì, però credo che con un punto possiamo essere contenti. Cosa vi eravate detti prima di questa partita? Come vi eravate caricati tra di voi? No, abbiamo detto che dobbiamo divertirci qua, giocare qua contro una squadra forte, però credo che tutti aspettavano un ambiente molto più caldo, i tifosi erano silenziosi oggi, se eravamo in San Siro credo che potevamo vincere questo, perché con clima così... Con clima così aspettavamo di più, però è bene, abbiamo guardato solo noi stessi e poi con un punto, come ho detto prima, possiamo guardare avanti. Adesso c'è il derby, avete vinto gli ultimi sei, arrivate con più pressione o motivazioni carica per questa sfida? Sempre con più motivazione, derby e derby, noi vogliamo continuare a vincere, sicuramente penseremo da domani, oggi rilassiamo e poi da domani ci penseremo a derby. Gianna, avete giocato una partita con grande carattere e personalità, questo è un punto davvero importante per voi? Sì, certo, ma non è facile contro una squadra come City, ma io penso che abbiamo fatto tutto quello che abbiamo voluto fare, allora il punto che abbiamo preso è giusto. Hai giocato in Champions contro il City con grande personalità, ti senti cresciuto da quando sei arrivato all'Inter? Sì, 100%, queste partite sono quelle che voglio giocare, allora sono molto felice che l'allenatore mi ha dato la fiducia di giocare, sì, sono molto felice. Queste sono quelle partite che vi caricano, vi danno ancora più stimoli per crescere ancora, per continuare a dare il meglio? Sì, se giochiamo contro le squadre così forti, sempre per crescere, allora penso che abbiamo fatto un'ottima gara, adesso vediamo come facciamo contro il Milan. Ecco perché questa partita vi ha dato tanto, sicuramente in termini di consapevolezza, ma vi ha tolto anche delle energie che vanno ricaricate per il Milan. Sì, ma è normale, in questo Champions adesso con otto partite non è facile per i giocatori, ma dobbiamo giocare, noi faceremo il migliore che possiamo fare. Carlos, che sensazioni vi lascia questo pareggio, una di quelle serate che non tolgono ma danno tanto in termini di consapevolezza? No, allora è stata una grande partita di squadra, sapevamo che era difficile giocare qua, però abbiamo fatto bene, abbiamo creato le occasioni, possiamo approfittare di più, però è un gran pareggio, giocare fuori casa e adesso continuiamo il nostro percorso. Abbiamo visto tanta compattezza questa sera in campo, avete mantenuto la concentrazione, l'intensità per i 90 minuti, l'avevate preparata così, vi aspettavate una partita del genere? Sì, aspettavamo perché loro giocano così, sapevamo che è difficile giocare contro loro, hanno il possesso sempre, però eravamo preparati per le occasioni, abbiamo fatto bene, abbiamo l'opportunità di vincere la partita, però il pareggio va benissimo. Questo punto si può trasformare in benzina per continuare a crescere, a dare il meglio? Sì, chiaro, quello che ho detto, come è difficile giocare qua, è un grande punto, abbiamo ancora sette partite nel campionato, abbiamo adesso i derby e la squadra è quella dell'anno scorso, abbiamo fatto benissimo. Ecco, adesso c'è il derby, una partita che rievoca dolci emozioni, dolci ricordi per voi, come la preparerete, come arrivate, con quale spirito arrivate a questa partita? Ah, il spirito di sempre, quello di solito, è una grande partita, è quella la partita più importante del campionato a noi, e affrontiamo nel modo giusto per portarla a vincere, perché sappiamo quanto è bello vincere i derby. Grazie mille. Grazie.